Buongiorno e benvenuti in Lasit. Oggi vi presento un sistema customizzato per la marcatura di dischi freno. La macchina quindi è composta da due sistemi conveyor, un cabinet di marcatura con sistema di visione per il centraggio automatico e lo scarico particolare. Ci troviamo nella zona di carico particolare, questa zona è predisposta per il carico in automatico da robot. Una volta posizionato il pezzo i sensori verificano la presenza del disco e quindi viene avviato il conveyor per portare il particolare all'interno della zona di marcatura. A questo punto il particolare viene portato in questa zona dove ci sono due battute regolabili in base al diametro del disco. Questa è la zona di carico manuale dove l'operatore può caricare il disco sul conveyor e avviare il ciclo manualmente. Ci troviamo all'interno del cabinet di marcatura dove troviamo la testa laser di un laser Fiberfly montato su un sistema assi X-Z motorizzato, solidale alla testa laser troviamo anche il sistema di visione e la bocchetta di aspirazione. Il particolare entra quindi all'interno del cabinet di marcatura, viene fermato attraverso un'apposita dima e viene chiusa la porta pneumatica e avviato il ciclo di marcatura. Con la visione che verifica il centraggio della marcatura attraverso uno dei fori, a questo punto viene effettuata la marcatura del data matrix e del test in chiaro e la verifica del data matrix. Bene abbiamo visto questo sistema completamente customizzato, un sistema conveyor per la marcatura in automatico e manuale di dischi freno. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto, arrivederci dalla LASIT.